buonasera a tutti quanti domenica 27 febbraio 2022 ci sono tre gradi 3 gradi si congela di freddo alle ore e mezzanotte e 21 minuti vi auguro una buonanotte a tutti quanti e viva la figa e forza inter abbiamo pareggiato però bene un pareggio è una perdita viva la figa chi dirà benedica vabbè buonanotte a tutti quanti e ci danno mani se ne vuole ciao a tutti